Allora Alberto, la mia prima domanda è che cos'è Smappo e com'è nata l'idea? Smappo è un event network, è una piattaforma per fare condivisioni di eventi e gestire e promuovere eventi. È nata circa due anni fa, inizialmente era un semplice motore di ricerca che io avevo messo in piedi per raccogliere eventi legati al running, poi mentre lo stavo sviluppando ho pensato di evolverlo a semplice motore di ricerca di gare e farlo diventare un motore di ricerca di eventi, quindi l'evoluzione è stata quella fondamentalmente, era un database con un piccolo algoritmo di ricerca ed è diventato fondamentalmente un social calendar. Poi nel costruire il social calendar e guardando un attimo che cosa c'era sul mercato di simile, mi sono reso conto che non era sufficiente. Allora sono entrate delle feature legate alla gestione degli eventi e in questi due anni di sviluppo è diventato un event network, perché Smappo è una piattaforma che integra le funzioni di event management e le funzioni di social calendar, con tutta una serie di meccanismi social tra gli utenti e quindi si può definire un event network. Quindi praticamente adesso a che punto si è con l'implementazione? Allora siamo a quella che chiamiamo Smappo S3, praticamente è il terzo stadio di crescita di Smappo, è uno sviluppo, un rilascio che è stato fatto quasi un mese e mezzo, due mesi fa e molto nuova come piattaforma, come versione online ed è frutto della collaborazione da parte degli utenti, perché in questi due anni si è passata da un'alpha a una beta, una beta molto avanzata, però comunque gli interventi, l'utilizzo da parte degli utenti e i feedback ricevuti ci hanno fatto capire quali erano le strade giuste e intraprese, quali erano le strade sbagliate, abbiamo fatto degli esperimenti per cercare di capire quali erano le funzioni che apprezzate, utilizzate e davano valore aggiunto alla piattaforma, invece quelli che erano superflue, quindi cercando di capire un attimo i meccanismi di utilizzo da parte degli utenti, le nostre strategie di crescita come start up, abbiamo realizzato questa nuova versione, abbiamo rifatto completamente il logo, tanto per cominciare perché un brand, un logo molto più accattivante, molto più indicativo era importante rispetto a quello che era precedentemente il logo ufficiale di Smappo, abbiamo rifatto il layout grafico e la disposizione di alcuni elementi all'interno della pagina per migliorare l'usabilità, abbiamo utilizzato tutta una nuova tecnologia IACS based per la visualizzazione dei contenuti all'interno delle pagine e soprattutto sono cambiati molti meccanismi di interazione tra gli utenti nella piattaforma, ad esempio nella versione precedente, allora Smappo ha un'anima molto social, quindi gli utenti oltre che condividere eventi come fanno su altre piattaforme molto più blasonate, possono interagire con gli altri utenti in un meccanismo di social networking, quindi nella versione precedente c'era un meccanismo di amicizia alla Facebook, ti richiede un'amicizia e tu me la confermi, ma su una piattaforma di gestione degli eventi abbiamo visto che aveva poco senso, quindi abbiamo modificato questo meccanismo un po' lo stile Twitter, cioè tu che sei un organizzatore di eventi, pubblichi degli eventi e chi vuole seguire i tuoi eventi fa un follow, che ha molto più senso su una piattaforma di questo tipo, in questo modo poi una volta che l'utente si è registrato sulla piattaforma, dopo il login compare uno stream con gli eventi smappati da tutti gli altri utenti smappo che lui sta seguendo, in questo modo si pulisce molto di più il rumore dell'attività su smappo e io come su Twitter vedo le attività delle persone che sto seguendo, non solo, se io come utente mi registro a un evento, il fatto che mi sono registrato a quello evento compare anche nello stream degli utenti che lo stanno seguendo, quindi creo dei meccanismi anche di promozione all'interno dei miei followers, cosa che nessun'altra piattaforma ha ed è uno dei motivi per cui smappo è veramente un event network. Oltre a questo abbiamo migliorato la dashboard degli eventi con tutta una serie di funzioni statistiche utili per capire come sta andando la promozione e la registrazione degli eventi, abbiamo inserito dei widget, quindi dei bottoncini che uno può embeddare all'interno del proprio sito come il forum di registrazione, abbiamo riattivato cosa che inizialmente avevamo lasciato stare e poi ce l'hanno richiesto gli utenti, il rismappo che è una specie di ricondividi, di retweet che uno può fare con gli eventi degli altri in modo da aumentare il meccanismo di promozione e condivisione di un evento che a me interessa e voglio condividere con gli altri. Chiaro, una curiosità, il nome da dove viene? Allora il nome nasce da tre anni fa se non ricordo male, doveva essere un qualcosa legato alle mappe perché smappo è integrato con le google maps, il focus è tutta la geolocalizzazione, quando mi registro vengo geolocalizzato, quando genero un evento geolocalizzo l'evento in modo poi da creare dei meccanismi di ricerca su base geografica, quindi su distanza e poi facilitare soprattutto alcuni dati statistici, tipo la forza di un evento, quante persone arrivano da una parte all'altra, quindi tutto questo meccanismo legato alle mappe mi aveva fatto scegliere il nome mappo, ma mappo come dominio era occupato e quindi non poteva più essere mappo. Sono andato in crisi per due o tre giorni finché poi aggiungendo, sai come si fa in italiano fare, sfare, mettere, smettere, mappare, smappare, allora è nato smappo. Chiarissimo. Devo dire che sta funzionando bene come brand perché spesso e volentieri, molti poi mi identificano come smappo ed è più facile magari che non si ricordano il mio nome ma si ricordano smappo. Ehi, ciao, smappo! Chiarissimo. Ti vorrei chiedere anche quali sono le prospettive di crescita o comunque di nuove implementazioni, nuove funzioni per il futuro di smappo. Allora, con la nuova versione abbiamo implementato due nuove tecnologie. Una è il meccanismo della pointification all'interno dell'attività di smappo, quindi quando io faccio il follow di un utente, inserisco un nuovo evento, mi registro un nuovo evento, acquisisco dei punti. non c'è ancora un meccanismo tipico di gamification perché sarebbe un po' troppo ambizioso in questa fase, è un meccanismo proprio di pointification, quindi acquisisco dei punti, punti che nelle nostre strategie di sviluppo vorremmo riuscire a convertire in qualche modo l'atto organizzatore evento, quindi avere magari un elenco di top users in funzione a eventi partecipati piuttosto che a ricondivisione del proprio evento. Questo potrebbe generare un meccanismo molto interessante per gli organizzatori di eventi in modo da crearsi una bella community di fans legate alle proprie attività di promozione eventi. L'altra tecnologia veramente interessante è il fast check-in. Allora, generalmente cosa succede? Io organizzo un evento, poi creo un ticket dove gli utenti si registrano per poter andare all'evento, questo richiede una pre-registrazione, però abbiamo visto sul mercato che molto spesso ci sono degli eventi aperti, quindi io vado senza bisogno di registrarmi, però cosa succede? Che l'organizzatore dell'evento vuole sapere chi ha partecipato all'evento, quindi ti fa compilare un foglio di carta, un nome e cognome, email e ti richiede comunque un po' di tempo. Con questa tecnologia fast check-in ad ogni utente viene assegnato un QR code univoco dell'utente, basta che io mostro il QR code all'ingresso dell'evento, viene letto il QR code, automaticamente viene fatto il check-in e in tempo reale l'organizzatore dell'evento può sapere il mio nome, cognome e l'email, quindi poter fare anche un follow up in tempo reale senza costi di gestione post-evento. In questo modo la tecnologia dovrebbe esnedire un attimo le procedure anche di back office, quindi si possono fare ragionamenti anche di cost saving l'atto organizzatore evento e soprattutto con la possibilità di stamparsi una tesserina in formato credit card, io vado all'evento, mostro la mia tesserina all'evento, viene letto e automaticamente ho fatto il check-in. Quindi queste sono le due grosse novità di questa nuova versione di Smappo. Mi potresti dare qualche numero? Numeri siamo ovviamente, essendo un settore di nicchia legato alla gestione proprio tipica degli eventi, ad oggi abbiamo 15 mila utenti registrati che pubblicano eventi, abbiamo quasi 120 mila eventi in database, una crescita, raccogliamo tramite partnership e feed di eventi con i nostri partner, qualcosa come 2 mila nuovi eventi segnalati al mese, raccolti e di virtual ticket, quindi proprio di ticket registrati siamo intorno ai 50 mila. Sono numeri piccoli ovviamente, però ovviamente il meccanismo di crescita è quello che a noi interessa. E devo dire che rispetto al periodo dell'anno scorso le statistiche ci stanno dando ragione sulla nuova versione, che è molto più usabile e interessante. Per quanto riguarda invece le app di Smappo? Allora Smappo in questo momento ha due applicazioni iPhone già disponibili su iTunes e sono un'app per quello che riguarda il lato consumer, quindi la possibilità tramite applicazione di accedere in tempo reale agli eventi localizzati, quindi in funzione di dove mi trovo, poter cercare nuovi eventi oppure visualizzare il proprio virtual ticket da mostrare poi direttamente al check-in. E l'altra funzione è la stessa del fast check-in, quindi sia il virtual ticket per cui mi sono registrato agli eventi, sia la possibilità di mostrare il fast check-in. L'altra applicazione che è specifica invece per il check-in degli eventi, quindi per chi organizza l'evento, è un'applicazione che permette di leggere, comportarsi proprio da organizzatore dell'evento, tramite la webcam io posso leggere il mio QR code e automaticamente fare il check-in della persona in tempo reale direttamente dall'applicazione e questa applicazione legge sia il QR code del virtual ticket sia il QR code del fast check-in, oltretutto c'è anche la possibilità di ricercare una persona senza il ticket per cognomo o email e automaticamente fare il check-in. Altra cosa carina che abbiamo aggiunto in questa applicazione è la possibilità di scattare una foto, per cui una volta che io ho fatto il check-in di quella persona posso fare una fotografia al suo biglietto da visita, fare una fotografia direttamente alla persona, oppure fare la fotografia a un documento di identità se è richiesta magari l'accesso al wifi oppure connessione alla rete, quindi in questo modo invece che fare una fotocopia del documento o utilizzare altri meccanismi, io posso avere comunque una foto di qualcosa legato al check-in dell'evento. Quindi questa qua è una funzione che fondamentalmente è una unique feature di Smappo. Per quanto riguarda invece i finanziamenti, avete ricevuto qualche finanziamento da Venture Capital piuttosto che Angel? No, allora su Smappo è partita come progetto bus strappato fondamentalmente, sta in piedi grazie alle partnership, finanziamenti in Venture Capital, in SID, in Angel non ce ne sono, abbiamo vinto il Working Capital di Telecom come progetto innovativo, questo ci ha dato ovviamente un po' di respiro, un po' di visibilità e di gratificazione ovviamente come progetto. quello che stiamo cercando di fare per il 2012 è ovviamente crescere, crescere vuol dire anche riuscire a trovare finanziamenti per ingranare la marcia successiva e poter andare sul mercato europeo, infatti una delle prossime mosse è quella di consolidare il mercato italiano e poi ovviamente andare sugli altri mercati in Europa, cercando di disturbare un attimo quelli che sono i nostri principali concorrenti. Quindi prospettiva per i prossimi 12 e rispettivamente 24 mesi? Allora considerato che generalmente per consolidare una relazione ci vogliono 3 anni, noi siamo quasi alla fine del secondo anno, abbiamo ancora un anno effettivamente per crescere, le difficoltà che abbiamo sono verosimilmente di due tipi, uno ovviamente è la concorrenza con i due top player del mercato che sono molto grandi, molto finanziati, hanno risorse economiche e ingegneristiche per poter andare sul mercato e coprire velocemente nuovi settori e l'altra difficoltà che stiamo incontrando è la conversione degli utenti, cioè riuscire a convincere utenti abituati a utilizzare altre piattaforme, soprattutto US based, che le stesse funzioni ci possono essere su smappo, quindi questo è una delle attività, a parità di funzione l'utente trova magari più figo utilizzare altre piattaforme solo perché sono US based e invece c'è da lavorare ancora per riuscire a convincerli a migrare su una piattaforma come smappo. Queste sono le attività che abbiamo in programma per i prossimi 12-24 mesi. Chiarissimo, insomma cosa dobbiamo aspettarci? Una crescita esponenziale di smappo, sarebbe veramente bello riuscire a farlo diventare la principale piattaforma di event networking in Italia e in Europa, le funzioni ci sono, ovviamente si tratta di riuscire a mantenere la base utente, quella già consolidata e farla crescere. La cosa positiva è che i grossi eventi che abbiamo gestito l'anno scorso si sono riproposti per la gestione cosmappo, quindi siamo già stati contattati, quindi vuol dire che il lavoro fatto precedentemente è stato positivo e ben apprezzato e quindi abbiamo già contatti per rinnovare le partnership fatte quest'anno. E in più stanno arrivando altri grossi eventi che dovremo riuscire a gestire cosmappo, ovviamente non sarà una passeggiata, ci andranno fatte delle personalizzazioni, però questo fa parte anche del settore, lo fanno anche i top player ovviamente. Benissimo, Roberto ti ringrazio tantissimo di essere stato anche con noi oggi. Grazie a voi, ciao!